Ciao a tutti e bentornati su questa rubrica di approfondimento e vetrina di strumenti classici per bande e orchestre. Questa è la playlist I classici. Eleganza nelle forme, nei colori e nella naturalezza dei materiali dei suoni. Queste le caratteristiche alla base dei uno dei pianoforti a coda più venduti. Sto parlando del Yamaha C3. La casa giapponese, leader sia nel mondo musicale che motoristico, da sempre punta tutto sulla cura dei particolari. Questo attraverso una costante revisione dei processi fondamentali per la creazione del suono. Sfruttando nuove soluzioni per la dissonanza e il controllo espressivo, i modelli della serie C sono in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi musicista ed è per questo che sono diventati i pianoforti a coda più venduti al mondo. Grazie ad un'attenzione speciale nel perfezionamento dei martelletti, delle corde e nel bilanciamento del meccanismo degli smorzatori, si è ottenuta una resa perfetta per ogni singola nota. Avendo dedicato moltissimo tempo al processo di messa a punto, il risultato ottenuto sta nella chiarezza degli armonici e nella ricchezza dei colori, che soddisfano le esigenze dei musicisti professionisti che possono avere un perfetto controllo dell'espressione. Ascoltiamo quindi un po' di sana musica classica, drizzando le antenne e lasciandoci trasportare da un suono incredibilmente rilassante. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!